Sì ragazzi mi sembra impossibile Alex qua devi finire il vetro e poi te ne puoi andare esiliato per sempre Va bene prima finisco il vetro e poi vado esiliato per sempre nella mia vita Buongiorno Oh salve Lui entra così Ciao Giusto quando il rapitore è stato catturato Allora prima di tutto tu devi imparare l'italiano Eh lo scopo buongiorno No non per quello Perché quando tu mi hai scritto arrivo verso 20 Io ho capito le 7 e 20 Ho scritto arrivo verso le 20 E io ho capito 7 e 20 E invece tu Intendevi le 8 Perché cacchio non hai scritto 8 Cosa sei un orologio analogico le 20 Chi cacchio scrive le 20 Ma le 8 sono le 8 di mattina Ma sono le 8 di mattina le 20 Cioè le 8 No le 8 sono le 8 Cosa penso che arrivi domani mattina non lo so Ma che no io scrivo 20 Ti sei perso tutto quello che è successo Fai cagare Guardi dico solo che ho esiliato Alex Perché mi ha rotto le palle Qua questo è un grande festo avete fatto E neanche scoppiato a cazzo E neanche scoppiato a cazzo